silenzio gli alert silenzio gli alert e partiamo col monologo allora ragazzi monologo iniziamo questo monologo innanzitutto vi chiedo a tutti se potete gentilmente iscrivervi al mio canale youtube perchè il mio canale youtube siamo quasi a 10.000 iscritti iscrivetevi è tutto gratuito attivate la campanellina per le notifiche e niente ragazzi iniziamo col monologo ieri è stata la partita della vergogna in campo e della stravergogna fuori dal campo il giosea murigno ha espresso il meglio di sé sia in campo che fuori dal campo addirittura i suoi lecchini di corte anche loro hanno criticato il murigno in campo e fuori dal campo perchè le dichiarazioni che fa sul rigore e tutto quanto hanno fatto prendere per culo anche i tifosi della Roma hanno fatto fare anche un post alla Lazio giustamente perchè veramente è stato è cascato nel ridicolo qual è? una persona ridicola è un pagliaccio è un il il più grande blef della storia del calcio che poteva capitare qua a noi e quanti direttori sportivi gente di calcio in privato e non posso fare nomi giustamente poi magari qualcuno in privato nei miei gruppi telegram magari lo sa o più nel mio gruppo VIP dice che eh lui quando andrà via da Roma ma non è da un anno sono due anni vi lascerà le macerie e questo sta lasciando sta lasciando le macerie di una squadra non allenata oggi altre notizie ho ricevuto che la squadra si allena poco a livello tattico tecnico e questo ve lo eh confermo al cento per cento perchè è no incrociata è stra incrociata e e poi un parco giocatore è demolito annientato questo ha sderenato la Roma su tutti i fronti ehm ci sono giocatori a scadenza giocatori che andranno che sono in prestito che andranno via giocatori che sono vecchi eh contratti rinnovati a gente che non se meritava quei contratti la Roma ehm per ripartire non so che cosa deve succedere perchè tu puoi prendere anche un dittorio sportivo forte puoi prendere anche un allenatore giochista forte però ragazzi per ricostruire sta squadra ci vogliono i soldini ci vogliono i soldini e e tutti i paletti che ci sono è un casino la Roma chi può vendere il prossimo anno può vendere speriamo di bala ah innanzitutto sono stato insultato quando ho detto che di bala star tranno io lo avrei venduto magari la Roma dà via di bala il prossimo anno perchè oltre che aveva messo i cuori a iu e tutto quanto ma che ce fai con giocatore del genere ma che ce fai ma che cosa ci fai gioca la metà delle partite oh ma che sa ma scherzà gioca la metà delle partite è fatto uguale punto perciò di bala via e di bala che ce può fare 12 milioni di euro ok in arabia in america io non credo che in premier league prendono di bala però poi vediamo chi puoi vendere abram abram ma ragazzi come fai a vendere ancora deve ritornare a giocare però un amatore a 20 milioni in arabia e in in inghilterra ok poi pellegrini pellegrini facciamo che trovi in arabia saudita un altro amatore che te dà 20 milioni d'euro ok ma ragazzi qui a Roma servono i soldi veri per rifarla no chiacchiere ma per comprare giocatori giovani per giocatori giovani forti giocatori per un altro progetto ci vogliono i soldi veri e questi e questo qua Giuseppe Murigno ha fatto fare i danni insieme a quell'incompetente di Pinto perché Pinto è un incompetente un bravo ragazzo che mi dispiace che è andato anche sotto la cappella di Murigno e alla fine anche lui ha pagato tanto Giuseppe Murigno perché io vi dico ufficiale tanti giocatori anche di scouting gli ha bocciato Giuseppe Murigno però Pinto è un incompetente Murigno è un ciarlatano un un manipolatore è uno che è venuto qui e alla fine dai e dai dai e dai è riuscito a distrugge la Roma a distruggerla in campo a mettere contro tifosi con tifosi io sono stato tacciato di Laziale male da Roma perché provavo a dire certe cose e sono stato alla fine essendo sempre stato coerente sempre da A alla Z perché Dajale ci ha avuto una cosa anche quando Roma vinceva è stato sempre coerente perché Dajale è coerente non è incoerente e sono sempre stato dalla stessa linea io dopo il primo anno come a tutti gli allenatori ho dato il primo anno tempo a Murigno la Roma vince la Conference League io dopo la Conference League ok il secondo anno con gli acquisti che c'erano stati anche a parametro zero spendendo 7 milioni mi ha andato a vedere i nomi io pensavo veramente che alla fine lui era un po' meglio perché comunque lo avevo visto da altre parti non è un allenatore che mi piace però pensavo meglio e invece dal secondo anno poi è incominciato a usci Murigno usci tutto Murigno come allenatore e come persona e il terzo anno ragazzi io credo ormai anche i calciatori lo hanno capito di che cosa si tratta ancora qualche tifoso no la comunicazione oggi ha provato a ritornare sui suoi passi dopo questa partita ma adesso è troppo facile stimo di più Daniele Lobayern che oggi fa ancora continua perciò è più coerente Daniele Lobayern che non nomina Murigno anche oggi è più coerente Zazzaroni che oggi non nomina per niente Murigno e quando a Roma vince fa i titolioni a quattro pagine che altri che altri che oggi cercano di ritornare un po' indietro perché forse hanno capito poi vanno su Twitter e fanno il tweet invece perché dopo forse già ti è arrivata la chiamata tante volte impostore 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 o facciamo oggi o facciamo stasettimana un altro articolo o fanno un altro articolo sul rinnovo di Murigno perché sì perché no vi fanno un articolo impostore vergognoso vergognoso a viscito impostore o facciamo un altro articolo perché sì perché no rinnovo di Murigno ce la facciamo fa un'altra leccata di bucio ce la famosi o no eh ce la facciamo sì o no impostori che non siete altro avete giocato con la passione dei tifosi della Roma invece di dire le cose come stanno eh invece di dire le cose come stanno perché io non credo che se gli arrivano a dagli ale le cose voi ne sapete di quello che succede a Tricoria e di quello che pensano a Tricoria eh gente gente che ha fatto calcio da una vita da ragazzini gente che ama la Roma e che dice che Murigno è il più grande bluff della storia del calcio lo sapete se o no queste cose eh e sapete che sono le nostre cose o sapete quello che si dice in privato quello che dicono i direttori sportivi quello che succede a Tricoria Tiago Pinto eh di questo impostore che parla di Pinto suo amico quando in privato gli ha detto le peggio cose a sto ragazzo eh ma voi non pensate che è una brava persona persona sportiva poi non lo so fuori dal campo che sta facendo di tutto mettendo i giornalisti contro la Roma per articoli suo per sua convenienza per i tifosi per farsi per emozionare un rinnovo di contratto eh per i suoi scopi per i suoi scopi perché perché Murigno Murigno non ha una squadra e perché Murigno ha i cazzi suoi a Tricoria e un'altra cosa poi mi viene da pensare no ma come mai questo viene a Roma e si fa fare tre anni di contratto uno cioè sei Murigno ti abbassi per la Roma però dici lo sai a me lo faccio a due anni perché al terzo anno io magari mi ero andato in top club perché a Roma ho fatto talmente bene che poi mi prende in top club e invece ti fai fare tre anni con una clausola scandalosa che se ti mandano via metti la Roma in mezzo alla merda metti la Roma in mezzo alla strada come mai come mai che hai vivi paura che usciva tutta la merda a galla e che venivi esonerato prima con un altro esonero in carriera a fuffarolo fuffarolo sei un fuffarolo Murigno è un fuffarolo e io lo sapete perché non me la prendo con la squadra eh perché la squadra gli ha dato retta su tutti i fronti tutti i fronti con i loro limiti ma su tutti i fronti gli ha dato retta perché questa è una squadra antisportiva che mena una squadra che comunque lotta per quello che può fare ma una squadra che non ha i principi e non ha non sa giocare a calcio rispetto alle altre squadre dove non ci sono le distanze dove non ci sono le linee di passaggio dove non dove si vede proprio che non c'è una ricerca e non c'è un lavoro e non c'è una costruzione dove ieri poi se andiamo a vedere possiamo anche dire che ieri sbaglia la formazione sbaglia i cambi ieri sbaglia tutto murigno sbaglia tutto e per non parlare dei suoi sbagli va in conferenza e ci parla prima del rigorino cosa che la Roma l'aveva avuto contro l'Atalanta perché quello dell'Atalanta se quello di ieri un rigorino è anche quello e contro la cremonese contro la cremonese a fuffarolo a pagliaccio perché se ho rotto il cazzo devo dire cose come sanno se è un pagliaccio fuffarolo oh ma chi va via per culo e poi ci parla dell'assenza e che non si può giocare senza di bala ma veniamo da grandi partite e abbiamo vinto con il Napoli il Napoli che perde 3 a 0 col Torino 4 a 0 col Frosinone in casa e pareggia a malapena col Monza 0 a 0 perché gli annullano un rigore al Monza con Pessina oh oh ma tu ci sei a pià per culo e e poi dici dici che ti manca di bala e col Napoli che hai elencato queste partite a Napoli l'unica che hai vinto a casa non c'era di bala a fuffarolo le bugie stanno a venire a galla oh t'hanno sgamato tutti e credo che t'hanno sgamato pure la squadra tua e mozzo a cazzi perché se t'ha sgamato la squadra sono cazzi ma no tua della Roma della Roma di quello che cazzo sei riuscito a fare hai distrutto tutto hai distrutto tutto perché poi alla fine vai a parlare perché ieri per non parlare di te che sei una vergogna sei riuscito a parlare di quinti di centrocampo e di giocatori che te mancavano vergogna vergogna sei un allenatore che sei la vergogna sei stato per me l'allenatore il personaggio sportivo peggio che sia stata Roma perché è ottenuto il più pagato il più pagato il più pagato che c'è stata Roma oh ma che cazzo mi hai fatto vergognare i derby contro una squadra di pippe mi hai fatto vergognare negli ultimi anni e una volta mi ha collato la colpa ai bagnats non ce ne sta più i bagnats e cose sono cambiate un gol non glielo riesci a fare Sarri ha vergogna vergognoso fuffarolo bugiardo bugiardo che sei altro ma adesso bisogna trovare soluzioni e soluzioni sono una allora o i frecchi ne venneranno nella società anche perché oh ragazzi io dico io le persone sono i frecchi ne sono i presidenti secondo me numeri uno hanno fatto di tutto e di più per bene da Roma e hanno sbagliato però hanno sbagliato le scelte ma ci hanno messo il cuore i frecchi e qui io io non sento io sento criticare questi che hanno messo i soldi e il cuore e non criticare uno che prende i soldi e stipendiato dalla Roma i frecchi hanno messo il cuore e tanti soldi sulla Roma andando a prendere Murigno e che se pensavano che Murigno faceva così andando a prendere Di Bala Lukaku con l'aereo facendo quello che hanno fatto per far sognare i tifosi perciò i frecchi c'è poco da di a livello di impegno e i sbagli li hanno fatti adesso sono rimasti da fare due cose o vennero a Roma o rilanciano il progetto non so come adesso se vuoi rilanciare il progetto frecchi dovresti fare una cosa andare a Trigoria uno e secondo me questa è mia opinione uno bloccare il mercato d'entrata non si comprano più giocatori io a Murigno ne compro più giocatori ma che cazzo allora è rimasta Europa League e campionato rientrerà in Dica fai con quello che c'è non ti compro più nessuno esce qualcuno non ti compro più nessuno fai i sordini di primavera perché mi avevi detto mi avevi detto che tu volevi far giocare giovani era meglio giocare giovani ok fai giocare primavera non ti compro nessuno uno due non ti azzardare a dare priorità all'Europa League non ti azzardare a dare la priorità all'Europa League per i cazzi tuoi per i cazzi tuoi perché la priorità la devi dare al campionato perché se tu te ne vai la Roma deve rimanere in Champions perché con i danni che ci sono stati alla Rosa in questi tre anni la Roma si deve rialzare e l'ancora di salvataggio della Champions League ce la deve avere e siccome abbiamo a quattro punti la Fiorentina a quattro punti la Fiorentina che la Fiorentina sta su tre fronti credo che sia il caso che una squadra come la Roma si dedichi solamente al campionato e magari se riescono a a a a rimettere i pezzi a posto se si dedica solo al campionato io credo che la Roma ha in Champions League ancora ci possa arrivare certo che se la Roma vuole fa Europa League e campionato allora vi dico col distacco già che c'è col calendario a ritorno con dieci perché ricordiamo che la Roma fa dieci partite in casa e nove fuori casa compreso il derby ricordiamo anche questa cosa e adesso avrà dieci partite fuori casa e una in casa compreso il derby e nove in casa compreso il derby e ricordatevelo ricordatevelo questa cosa qui perché che cosa succede e qui e i tifosi della Roma gli hanno fatto prendere tanti punti a Giuseppe Murigno ricordatelo perché la Roma c'ha in trasferta una squadra da zona retrocessione e in casa sessantadumila tifosi spettacolari gli hanno fatto prendere i punti a sto pagliaccio ma voi vi rendete conto che gli hanno fatto pieni punti gli hanno fatto prendere una marea di punti i tifosi da Roma e la cosa che mi incasso io è perché quando la Roma c'aveva grandi squadre sto pubblico non c'era e io spero che prossimo anno se vada via sto impostore sto pubblico continui a rimanere così compatto per la Roma perché perché sto pubblico aiuta molto la Roma e e perciò ragazzi il campionato è difficile se pensi pure di fare l'Europa League andare in Champions League ma per Roma la Champions League è vitale e perciò dico un'altra cosa questa forte a Milano sarà una perda deve essere sovranato Mourinho senza sé e senza ma a costo di non prendere nessun allenatore e di mettere Foti alla direzione della prima squadra se la Roma perde a Milano con il Milan la Roma per cercare di arrivare al quarto posto deve esonerare Giosè Mourinho se non lo sonerano neanche dopo Milano se si perde a Milano ragazzi io alzo le mani e cominciamo anche a criticare i fracking a meno che non vendano la Roma a meno che non vendano la Roma e cominciamo anche a criticare i fracking monologo terminato ragazzi e vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube fammi rialzare ragazzi